Santa Margherita e Montevago. Facciamo il conto che Montevago fa 4.000 abitanti e 6.000 abitanti li farà Santa Margherita, no? Allora, qua ci sono più supermercati, sembra che c'è più movimento, c'è l'agricoltura. Allora, avete fatto il conto che 6.000 abitanti devono cercare il lavoro e vanno a trovare i supermercati e allora dice che fa, mi fa trovare il supermercato? Dice vabbè, se non c'è bene oggi, ti faccio entrare a te, a Montevago invece non c'è neanche un supermercato. Cioè, dobbiamo mettere in modo che la gente sta al lavoro. Mettetemi in mente che ci vuole il lavoro qua, il lavoro ci vuole, cioè neanche un supermercato a Montevago c'è. Cioè, mettiamocelo in mente dove andare a cercare la gente in lavoro. In agricoltura, nell'agricoltura che ho un mese l'anno che c'è la vendemmia e poi a taglio al stocco che sono solo i quattro fidati. Ma lasciate stare, vedi che è stata una grida a Montevago, ancora c'è di mettere cervello, cervello!